Un anno è già passato, un anno è già passato, un anno dall'uscita delle console next gen. Ragazzi, quando, poco prima che partisse su Top Off, anche se c'è il bannerino di eSport, ma non avevo ancora fatto di Top Off, dobbiamo stare questa piccola disgressione, essenzialmente avevo parlato chiaro e spiccio di come comprare una console next gen al day one. Mmm, avevo qualche dubbio, ok? Le console ovviamente dovevano essere testate, i servizi, i giochi dovevano arrivare, le ottimizzazioni dovevano arrivare, tante questioni come il passaggio dalla old gen alla current gen, i titoli, quando sarebbero usciti, i costi dei servizi, come sarebbe stata mantenuta, il peso, la potenza, la grafica, tutto era un enorme punto di domanda. E adesso ci troviamo già un anno dopo, un anno nella quale possiamo già iniziare a tirare fuori qualche piccolo risultato, sia per le console made in Sony, sia per le console made in Microsoft. Sia ben chiaro, questo video non sarà fatto per, appunto, aizzare i soniani contro gli Xboxari in una guerra che continua di anno in anno. Ma ragazzi, assolutissimamente no, io voglio solo rispondere ad una domanda. Un anno dopo dal loro lancio, le console next gen meritano di essere comprate? Iniziamo questa piccola avventura con PlayStation. Benvenuti su Top of Gaming. PlayStation è sempre stata una console che mi ha fatto sbattere forte forte il cuore, ma voglio essere sincero, come per la controparte Xbox, comprarla al Day One, dagli 500 paranca al Day One, non ero così fiducioso. Anzi, non glielo ho proprio dati. Perché? Perché appunto c'erano tante, troppe cose che non tornavano nella nostra mente. Vi faccio semplicemente degli esempi. Prima di tutto, la console PlayStation 5, rispetto alla controparte Xbox, aveva questi teraflops un pochino inferiori. Quindi, in qualche modo, tutti avevano pensato fosse molto inferiore dal punto di vista grafico. Ma non lo potevamo sapere fin quando non li abbiamo avute. E questo dato, in qualche modo, ci ha detto, aspettiamo e vediamo. Dopodiché, dobbiamo parlare della qualità e dei problemi delle console. Perché lo sappiamo benissimo, quando si mette un prodotto nuovo sul mercato, i problemi sono dietro l'angolo. Vi voglio ricordare il Red Ring per quanto riguarda Xbox, oppure i joystick di PlayStation 4 che iniziavano a lisciarsi gli analogici in men che non si dica, oppure i problemi che avevano le PlayStation che partivano a razzo con la loro ventola. Oppure parliamo ancora del fatto che Sony non aveva molto ben espresso come sarebbero stati fatti i passaggi tra la old gen e la current gen. Vogliamo anche parlare del fattore digitale e il fattore Blu-ray delle console. Perché, appunto, anche questo avrebbe potuto definire, essenzialmente, se comprare oppure no una console. Rincariamo le dose? Il costo dell'abbonamento. Rincariamo la dose? I videogiochi. Non sapevamo, essenzialmente, cosa sarebbe uscito. Sapevamo che sarebbe uscito qualcosa. Ma quando, per via del Covid, per via della crisi dei chip, per via, ovviamente, anche del fatto che le scorte erano limitate, ma lo sapevamo, appunto, in molti si chiedevano se, appunto, i titoli non sarebbero stati rilasciati e spalmati un po' più nel tempo. E soprattutto se i titoli che uscivano in questa prima parte di anno di vita avrebbero davvero avuto una grafica next gen. Perché, insomma, ci sono stati alcuni titoli che sono usciti sia per le PlayStation 4, sia per PlayStation 5. Beh, indovinate un po', la grafica era uguale, a parte un po' di risoluzione e un po' di frame per second in più. A parte questo, cosa abbiamo scoperto di PlayStation? Vabbè, io l'ho provata per un anno, ho giocato i suoi titoli. Devo essere sincero, così piccolo spoiler, mi è piaciuta tantissimo, come anche la controparte Xbox. Ma ne parleremo in un prossimo video. E comunque dobbiamo iniziare a parlare con ordine di tante cose diverse e iniziamo appunto con la questione costi. Essenzialmente comprare una consola da 500 euro, ragazzi, non è spesa per tutti. Non è una spesa facile per chi lavora e non è una spesa facile per adolescenti e soprattutto è una spesa difficilissima per i ragazzini che ovviamente per compleanno, aspettando Babbo Natale ricco, chiedevano una questione, prima difficile da reperire perché appunto la limitata scorta, la crisi del Covid, la crisi dei chip essenzialmente si è fatta sentire molto sulle console e poi ovviamente questo ha avuto un riflesso anche per quanto riguarda le buste paghe dei nostri genitori, ad esempio, che dovevano regalarci questa incredibile console. Insomma, spendere quei 500 euro non è stato facile per nessuno. E soprattutto c'era da chiedersi, 500 euro? Sì. Ma per che cosa? Beh ragazzi, il primo titolo che era uscito essenzialmente era Demon's Souls. Ma dei giochi ne parleremo in un secondo momento. A parte questo, che cosa ti offriva Sony? Ragazzi, Sony non aveva detto niente. Sony non ci aveva fatto comprendere se i titoli sarebbero stati, avrebbero avuto un upgrade gratuito tra le console old gen e current gen. Le notizie sono arrivate passo dopo passo, mattone dopo mattone, ma solamente dopo un bel po' dal lancio di PlayStation. Vi voglio ricordare che ad esempio Blizzard con ActinVision ha detto che il supporto, l'upgrade, sarebbe stato gratuito solamente a febbraio 2021. Allo stesso tempo Ubisoft ed Electronic Arts, fino all'ultimo, non si erano espresse. E Sony? Beh, Sony aveva fatto anche di peggio. Comunque sia una cosa è certa, finalmente questo tassello è stato fatto e finito. E cioè, tutti i titoli che avevamo a disposizione sono passati nella console current gen. Questo, in qualche modo, ha portato a giocare alcuni titoli in maniera migliore? Diciamo di sì, diciamo di no. E una cosa importante da dire, ragazzi, mettere un, ad esempio, un Assassin's Creed all'interno di una console next gen, sì, ha aiutato. Ha aiutato tantissimo nei caricamenti, ha aiutato un pochino nella grafica. Ma, ad esempio, mettere altri titoli, faccio un esempio, di Electronic Arts, dalla console old gen a quella current gen, dato che Electronic Arts non ha lavorato bene, non c'è stato questo gran improve, ok? La risoluzione e i frame, ovviamente, ne risentono un pochettino. Ma sia ben chiaro solo questo. Non stiamo parlando di grafica, non stiamo parlando di texture, non stiamo parlando di ray tracing. Stiamo solo parlando di risoluzione, il che è una questione molto diversa che se non parlare di vera e pura grafica e qualità delle texture. Dopodiché c'era la questione della potenza. Oh mio Dio, ragazzi, questa storia della potenza per i bimbi minchia era una questione importantissima. 15 verso 14. Ribadiamo il concetto, come ve l'ho fatta ben espressa anche nel punto prima della grafica, dell'ottimizzazione e del passaggio dei titoli dalla old gen alla current gen. Molto dipendeva dall'ottimizzazione, cioè da come il titolo sarebbe stato sviluppato. Per fare sempre il mio solito esempio era come avere una super mega Lamborghini, wow, sfriccio a 350 km all'ora. Ma attenzione, se il titolo non è ottimizzato, non è stato sviluppato bene, non è stato sviluppato con dentro un ray tracing e effetti particellari e che tutto funzioni in qualche modo bene e collaudato, tu puoi fare tutti i titoli che vuoi sulla tua Playstation o Xbox, puoi darmi tutta la potenza che vuoi. I titoli saranno una merda. Esattamente quello che vi ho espresso qualche secondo fa con i videogiochi, no? Ci sono state alcune software house che sì, hanno fatto degli improvvi importanti, importanti, hanno migliorato un po' le questioni, vediamo ad esempio Spider-Man Miles Morales, vediamo ad esempio alcuni Assassin's Creed come il Valhalla che tra una versione old gen e una current gen aveva un framerate sicuramente più ottimizzato, dei caricamenti sicuramente molto più veloci, ma ce ne sono stati altri che hanno detto me ne frega niente, Call of Duty, Electronic Arts, Blizzard, chi più ne ha più ne metta. Insomma, anche questa questione poi alla fine in qualche modo ha trovato il suo cerchio. Il cerchio era che Sony essenzialmente ha iniziato a battersi con Microsoft e ha tirato fuori questa questione della potenza, in molti hanno pensato fosse questioni importanti, in realtà ci siamo accorti che questa potenza in realtà è stata gestita bene in alcuni casi, malissimo in altre. Detta in parole povere, ognuno ha fatto che cavolo voleva. Questo in qualche modo ha immusonato un po' alcuni player che avrebbero voluto, pensato, desiderato qualcosa in più dalla next gen. E per molti mesi questo qualcosa in più non è mai arrivato. Con anche delle informazioni messe un po' così alla casaccio, non ben dette e con una comunicazione, scusate, con la community assolutissimamente inefficace. Bene, ed ora passiamo alla questione errori, passiamo alla questione qualità della console, passiamo alla questione dello spazio interno alla nostra console. Una delle cose che vi ho detto per non comprare le console al day one era essenzialmente che appunto si tratta di un hardware nuovo, si tratta di un hardware che appunto avrebbe dovuto, anche se ottimizzato in qualche modo, essere prodotto in massa. Questo in qualche modo avrebbe purtutto portare a una diminuzione della qualità e quindi al fatto che potrebbero comparire vari errori, varie magagne. Ricordo il Red Ring sull'Xbox, ricordo i problemi alle ventole sul riscaldamento delle PlayStation, ricordo i brutti joystick di PlayStation 4, ricordo alcuni Joy-Con di Nintendo Switch della prima versione che non funzionavano correttamente. Volete che continui? Meglio di no ragazzi perché sennò questo video viene dedicato solo alle rotture delle console in giro per il mondo. Fatto sta che qualche problemino c'è stato, un'ottimizzazione del software che fortunatamente è arrivato di mese in mese ma che diciamo al day one non era proprio così ottimizzato. Alcuni problemini con le Sense, alcuni problemini con il riscaldamento, alcuni problemini con le ventole, alcuni problemini col fatto che le console current gen siano davvero molto molto grandi e le scocche e alcune qualità di questo pezzo di 500 euro diciamo erano davvero low, 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 low budget come si evince dagli unboxing che si è fatto della console e dell'hardware al suo interno dove abbiamo notato che la qualità del sistema di raffreddamento potevano sicuramente fare qualcosa di più, sono andati molto a risparmio. Comunque sia, problemi gravi non ce ne sono stati, anche se c'è da dire che qualche joystick che si sporcava velocemente, qualche joystick che si è rotto, qualche joystick che non funzionava più correttamente o sì sono stati riportati online in diverse occasioni. Ma non dimentichiamoci neppure la questione hard disk. Ragazzi la questione hard disk era importante avere un hard disk di solo 1 tera nel 2021 e cosa malvaggia perché con alcuni titoli e beh bisogna iniziare a liberare spazio. Vedete cosa è successo con Call of Duty? Vedete cosa succederà con Elden Ring che gli sviluppatori hanno già detto? E servono 90 giga di spazio se lo comprate digitale. 90 giga di spazio con già un po' di spazio occupato dal sistema operativo. Più abbiamo qualche titolo come i Butterfield, come un Call of Duty che sappiamo essere un po' tosti e quindi occupare più di 100 giga del nostro hard disk. Ragazzi la questione non è facile. La questione non è facile per nessuno e soprattutto per chi ha comprato la Digital Edition le questioni si sono rivelate essere molto 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 spinose e anzi aver aperto anche al panorama degli hard disk esterni che ovviamente nel primo periodo sono stati lanciati a prezzi assolutissimamente folli. Adesso la situazione è un po' rientrata come anche per la controparte Xbox comunque sia gli hard disk originali venduti direttamente da Sony da mezzo e un tera sono venduti a dei prezzi assolutissimamente folli perché appunto hanno fatto la mano molto molto corta sullo storage interno alle loro console. Per quanto riguarda i servizi invece dobbiamo dirlo PlayStation sta facendo alle cose abbastanza bene. Il PlayStation Now sta funzionando molto bene certo c'è sempre la questione che alcuni titoli quelli più grossi, quelli più cicciosi non escono subito sul PlayStation Now e quindi in qualche maniera appunto bisogna per forza reperirli sul PlayStation Store oppure comprarli in versione fisica e quindi buttare giù un bel po' di cash che ovviamente io penso facendo una controparte un confronto con quello che succede con Xbox credo che in questo preciso punto Sony stia facendo molto male una cosa è certa il nuovo sistema, il modo con cui si registra il modo in cui si fa gli streaming il modo in cui si vedono gli achievement il modo in cui si accede si accede scusate alla dashboard su questa console è tutto un altro fare è tutto un altro dire e il sistema funziona sempre molto molto bene ora però ragazzi entriamo nel punto davvero importante di tutta la questione le console si comprano per giocare non per il Blu-ray, non per i servizi non perché è integrato Discord anche se ovviamente l'acquisto delle software house come Blue Point Games per Sony è stato davvero un bellissimo momento di giubilo ma essenzialmente me ne fotto altamente potevano comprare Discord come potevano comprare una cuccia per cani quello che io voglio sono i videogiochi e al day one c'era da dirlo comprare la console per un remake Demon's Souls ma manco a pucazzo ti davo 500 euro tralasciamo il fatto che io per i titoli Dark Souls tendo ad avere un po' di odio perché? perché la gente si riempie la bocca di Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls e poi obiettivamente quando vado a vedere la achievement la gente che l'ha finito davvero chi può dire ho finito Dark Souls sono davvero molto molto pochi in molti quindi si riempiono la bocca con solo i titoli più famosi che appunto in questo caso è stato Demon's Souls che era molto acclamato da chi appunto il mondo dei Souls lo ama e lo adora però c'è anche da dire che la situazione per alcuni titoli è stata notevolmente notevolmente sottotono vi devo ricordare di Destruction All Star oppure Astro Playroom oppure vi devo ricordare Godfall beh queste sono tutte esclusive PlayStation 5 che ovviamente molti di voi non si ricorderanno perché? perché nessuno se le altamente cagate certo voi direte eh ma c'era anche Marvel's Spider-Man Miles Morales ragazzi era disponibile per PlayStation 4 eh ma c'era Kane a Bridge of Spirit beh esisteva anche su PlayStation 4 esisteva Sackboy a Big Adventures beh esisteva anche su PlayStation 4 insomma le vere motivazioni per avere una console sono comunque i giochi e i giochi dobbiamo dirlo di belli ce ne sono stati forse fin troppo pochi lo sappiamo è stato un anno difficile si è tornati alla nostra vita solo quando il mondo ha iniziato a vaccinarsi quindi stiamo parlando di marzo, aprile, maggio ma ancora adesso la situazione e comunque continui posticipi sono davvero all'ordine del giorno una cosa è certa per comprare una console io voglio avere titoli che funzionano solo e solamente molto bene e funzionano solo sulla mia console PlayStation 5 Ratchet & Clank Riftapark essenzialmente è stato uno dei titoli che più di tutti mi ha conquistato Returnal è stato un Souls-like davvero meraviglioso Demon's Souls anche se non sono un fan di questa saga oh beh è stato fatto e ha avuto un remake davvero di tutto rispetto Deathloop che lo sappiamo è stata un'esclusiva temporanea per PlayStation 5 oh beh anche quello aveva delle abbastanza buone qualità insomma c'è da dire una cosa di titoli veri e propri che mi spingono e mi fanno venire voglia di comprare PlayStation 5 ce ne sono all'interno di questi che vi ho descritto davvero molto 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 pochi aspettiamo sicuramente con grande trepidazione i titoli come God of War oppure i prossimi titoli dell'insonnia oppure Gran Turismo ecco quelli sono titoli importanti blockbuster che hanno reso PlayStation la console per giocare più bella in assoluto e con tantissime esclusive c'è quindi come avrete capito nel primo anno di nascita di PlayStation 5 un grave enorme problema di giochi che potete avere su appunto questa console un quantitativo di giochi che in molti come il sottoscritto ritengono assolutissimamente insufficiente a me davvero poco importa se tu hai spreso la PlayStation 5 per 700 euro questi ragazzi sono dei problemi per chi non se lo sa tenere nelle mutande e per chi non sta dando il giusto valore alla console per chi non sta valutando i pro e i contro di una nuova console vuole solamente essere geek avere il pezzo più potente in assoluto ma se il pezzo più potente in assoluto non ci posso giocare e molte informazioni arrivano con fin troppo ritardo forse quel pezzo incredibile può anche restare lì sugli scaffali e poco me ne frega che è stata una delle console più vendute in assoluto più vendute sì ma se poi dovessimo andare a vedere il quantitativo di polvere il quantitativo di titoli il quantitativo di ottimizzazioni che sono state fatte sulle console current gen c'è da dire che non è stato fatto questo gran lavoro insomma quindi comprare la console al day one o no ragazzi assolutissimamente no adesso un anno di ritardo indubbiamente voglio darvi il mio piccolo giudizio la situazione è notevolmente migliorata e penso vivamente che la situazione nel 2022 arriverà a migliorare ancora di più e forse qui è il momento di iniziare a pensare appunto all'acquisto della console c'è qualche giochino c'è qualche supporto adesso arriverà anche le versioni current gen di titoli molto blasonati e importanti come Cyberpunk 2077 e altri titoli di Bethesda dopodiché ci si arricchirà di tante esclusive di tanti servizi appunto all'interno di Sony PlayStation quindi forse è arrivato il momento se la si trova di comprare questa console che diciamo ha arrancato molto fortemente in questo anno ma che sicuramente nel 2022 se avremo un minimo di respiro e l'economia e il mondo dei videogiochi sviluppatori e tutto quanto tornerà a livelli normali indubbiamente migliorerà ancora più velocemente io ragazzi sono davvero felicissimo di aver fatto questo video secondo me è utilissimo soprattutto perché ci avviciniamo alle vacanze natalizie quindi in molti inizieranno a pensare ma merita di comprare questa nuova console adesso la situazione rispetto a un anno fa adesso che l'hai capita adesso che te l'ho raccontata capirai che è molto molto diversa aspettate il video su Xbox e occio non è una guerra tra le varie console e non è neanche il fatto che sono sognani nintendaro segaro atariano e chi più ne ha più ne metta o venusiano è un modo chiaro per dire le cose come stanno PlayStation 5 nel 2022 dovrebbe davvero sbocciare il 2021 è andato così insomma è una brava console ma deve applicarsi di più per tutto il resto ci vediamo nel prossimo video e soprattutto nei prossimi video di Top of Gaming alla prossima ciao